Tre punti per allungare la positiva striscia d'inizio campionato e sognare addirittura di andare in vetta in caso di mancate vittorie per Verona e Cittadella. Il Pescara questa sera alle 21, nel primo turno infrasettimanale di questa stagione, riceverà il Crotone e sarà il primo test contro una candidata forte alla promozione in Serie A. Al di là degli spunti di classifica, i Biancazzurri vogliono proseguire in quel percorso di riavvicinamento con il pubblico e proveranno anche a migliorare la qualità del gioco, dopo che sabato scorso il Foggia, per diversi tratti della gara, aveva messo in difficoltà la squadra di Pillon, ridestatasi a seguito dell'errore dagli 11 metri di Mazzeo fino a trovare il gol partita con Gravillon. Appena due le sedute di allenamento per preparare la gara. Nella lista dei convocati manca Scognamiglio, che ha preso una botta ad un ginocchio nella rifinitura pre-Foggia e nelle prossime ore effettuerà una risonanza magnetica, anche se al momento sembra si possa escludere l'interessamento dei legamenti. Ci saranno delle novità rispetto all'11 antifoggia. In difesa Campagnaro prenderà il posto di Perrotta, mentre Ciofani e Balzano sono in ballottaggio per una maglia a destra. A centrocampo tornerà Macin e Brugman così agirà di nuovo davanti alla difesa, conferma anche per Memucciai. In avanti Antonucci sembra in vantaggio su Capone, di Monachello e Mancuso, gli altri due posti nel tridente. Nel Crotone, riduce dalla sconfitta interna col Verona, mancherà uno degli ex, Martella, che è nella lista degli infortunati, al pari di Sampirisi, Barberis e Figliuzzi. Ci saranno gli altri ex, Ben Ali e Stoian, al pari del tecnico Giovanni Stroppa, che ha parlato così alla vigilia del match. Sicuramente qualche giocatore per forza di cose sarà alternato o sostituito. Per quanto riguarda gli errori, sono quasi tutti errori di scelta e tecnica. Dicevo appunto prima che il Verona ha costruito le cose migliori sui nostri errori. e quando sbagli tecnicamente, chiaramente quando poi sei aperto, puoi farti male. E così è stato. Sicuramente dobbiamo lavorare molto meglio lì. Partita di gamba. Adesso non so come saranno in condizione, a livello fisico, se avranno recuperato. Però è una squadra ostica, meno palleggio, gioca con lo stesso sistema di gioco del Verona, però meno palleggio, più verticalità, giocatori davanti appunto di ottima gamba. Quindi dovremmo essere ancora più bravi nella capacità di non sbagliare nel palleggio. Partita comunque insidiosa. Direzione di gara affidata a Nasca di Bari, assistenti La Notte di Barletta e Opromolla di Salerno.